Se c'è un argomento che nella città di Fano ha fatto discutere più di altri negli ultimi anni è sicuramente quello che riguarda le panchine lungo il molo tra il Lido e l'Arzilla. Oggetto di molti dibattiti social e anche di vignette ironiche, in questi giorni l'amministrazione fanese è intervenuta per ricoprire le otto sedute con un particolare legno pregiato. Ho chiesto di fare un rivestimento di quello che la seduta aveva dei problemi di freddezza per cui l'abbiamo migliorata con delle listelle di legno di rocco che è il materiale, naturalmente, il legno più pregiato che c'è in assoluto che è lo stesso dello schienale. È un legno che ad oggi assume un colore più chiaro ma naturalmente muterà e diventerà uniforme allo schienale con l'esposizione al sole. Nel giro dei prossimi giorni invece Brunori fa sapere che verranno sistemate le parti ammalorate del molo dove sono tuttora presenti buchi e avvallamenti per poi, il prossimo anno, intervenire con un progetto più ambizioso con una vera e propria riqualificazione. Altri interventi proseguiranno nei prossimi mesi. Continuano quelli che sono i lavori di illuminazione della cavea. Penso che i primi di maggio saremo proprio accesi e anche lì metterò le stesse panchine che sono posizionate in questo molo nel senso che ne abbiamo altri in magazzino che ho fatto naturalmente modificare anche quelle. Oltre questo, entro giugno dovremo anche riqualificare il sottopasso con la collaborazione di un istituto scolastico che, incrociando le dita, salvo cambiamenti Covid, dovrebbe procedere e portarci l'inaugurazione.